...le accusa di tutti i gerenziati con una semplice passeggiata elettorale. C'è un garaio lì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Allora, la dichiarazione è che vorrei che oggi fosse nominato a D, qualche giorno è oggi? Sì, 12, 12, 11, 2017. Un giorno dopo di San Martì sarà Taccadei. Taccadei. D'ora in poi faremo la Taccadei. 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 Sì, sì. Grazie a tutti. E poi le sicurezze se ne vanno a fanculo.